Il Napoli si è sgonfiato. L'ennesima batossa stavolta ad opera dell'Atalanta evidenzia i limiti di una squadra alle corde priva della brillantezza e dell'aggressività che ne ha caratterizzato l'azione in tutto il campionato. La pesante sconfitta in casa al San Paolo sembra precludere ogni invelleità di raggiungere il terzo posto. Resta la finale di Coppa Italia con la Juventus in programma il 20 maggio ed una qualificazione in Europa League per il prossimo anno già assicurata. Ma anche la preoccupazione di una caduta libera in campionato da evitare assolutamente. Mazzarri nella conferenza stampa post-gara non si nasconde. Un insieme di fattori. Siamo stanchi, abbiamo retto decentemente un tempo, una squadra molto più fresca di noi, ben organizzata. Poi siamo un po' calati, non un po', tanto. Probabilmente abbiamo pagato anche la partita proprio contro la Lazio. Nel momento in cui poi ogni volta ai primi tiri, al primo tiro, eravamo anche partiti bene. Primo tiro prendiamo gol, in questo momento c'è anche un discorso psicologico che paghiamo. Tante assenze, un momento dove siamo un po' in difficoltà. Probabilmente paghiamo tutti gli impegni, non siamo abituati, non siamo lucidi in tanti elementi. E ripeto, non ci scordiamo che da diverso tempo ci mancano dei giocatori importanti anche per dare concretezza al nostro gioco, che da sempre era consolidato in un modo. Quindi abbiamo dovuto fare qualche adattamento, qualche variazione tattica. Quando una squadra è in difficoltà, anche da un punto di vista fisico e anche mentale, paga subito, paga di più. Quindi bisogna solo ricompattarsi. Speriamo di, soprattutto dopo la partita a Ollecce, che ci riusciamo anche a recuperare le condizioni, fare qualche lavoro specifico per i giocatori che in questo momento non sono al top. Questo è successo. Grazie.